Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. I Magnifici si è aggiudicata l'incontro con Iria Pallanuoto che si è svolto lo scorso 6 marzo, tredicesima giornata del campionato interregionale Pallanuoto Italia. Gara che si è chiusa con un risultato di 8 a 4 a favore della squadra milanese. I marcatori del team vogherese sono stati Salluzzi e Buffa. Spicca la doppietta di Marzullo. Zucchi, pur sottolineando l'esistenza di alcuni spunti positivi su cui lavorare, riconosce che la squadra non è riuscita a reggere il ritmo della prima in classifica anche a causa di alcuni errori. Ecco gli highlights della gara. Come siamo qui? Grazie. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.